Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Oggi faccio un Get Ready With Me un po' diverso dal solito Di solito mi truccavo abbastanza, anche molto più del normale, del mio normale Oggi invece voglio ricreare il trucco che avevo nel Makeup Roleplay Tutti, tutti, tutti mi avete chiesto che eyeliner usato Che rossetto esatto, che cos'è tutto Quindi ho detto, vabbè, lo ricreo così facciamo prima E oggi ho una faccia A volte mi guarderò qui e a volte guarderò qui sotto perché ho sospedio Spero non vi dia particolarmente fastidio Però così E oggi non so perché ho questo russore A caso mi avrò appunto qualcosa E qui c'è una crosticina E non metterò quando niente Mi metterò un po' di correttura Insomma è una cosa molto semplice Però appunto voglio usare dei prodottini che a quanto pare mi sono piaciuti Ok Prima di cominciare io faccio due cose Questi sono il mio pochettino per i trucchi Di qualcosa di Eber Non so se l'ho fatto vedere Ha uno shop sweats bellissimo E mi hanno passato Il primo è quello di mettere il burro a cacao Anche se un pochino ce lo so Il secondo è quello di mettermi il Con zonotti Me lo sono già messo stamattina Le metto giusto un altro Progettino Questo perché andrò metto il correttore Che tende un pochino a seccarsi In me Quindi voglio Essere sicura di aver trattato bene la zona Come vedete ho provato anche a mettere Le lucine dietro Queste lucine hanno la base trasparente Quindi si vedono un po' le linee Cosa che non mi fa impazzire Fanno bene su sfondo chiaro Non su sfondo scuro A me non è lezione imparata Però le tengo insomma Ok Quindi andiamo subito con il correttore Prima mi metto la fascia Se vedrete Questa macchia rossa qui E' un cerotto perché ti pianto Con la sua mi sono fatta male Con il correttore Io uso questo Io uso questo Della Makeup Revolution Come correttore mi piace Però non penso che lo ricomperò Perché è un odore terribile Proprio della serie Sono fatta con un link Link indiscibili Però mi ci trovo bene E' abbastanza Medio in coverage Non penso sia full Ma meno non come lo metto io E comincio Ok Però non mi sto guardando Proprio solo Nella videocamera Quindi sì Perdonatemi se non vi sto guardando Non so Quando voi vi truccate E parlate con una persona Non so se guardiate la persona Guardiate Cosa state facendo Cioè come vedete A me non copre così tanto Poi sicuramente Non sarebbe anche fondoti niente Magari Ne potrei mettere anche un po' di più Ma non sono interessata Nell'effetto Insomma la maschera Oggi poi Durante l'estate Ma anche lì Vabbè Ok Un bel puntino qui E un bel puntino qui Sentite? Cioè qui copre abbastanza bene Il problema delle mie occhiaie Che sono anche Ci sono affondate Non so come dire Quindi Hanno proprio uno spessore Sono incavate Ecco Ok Adesso fisso Giusto giusto Con un velo Velissimo Praticamente Zero Cipria Ma ripeto Pochissimo Questo pennello Tutti i pennelli sporchi Non proprio Non praticamente niente Anche perché Con il poco che ho messo Poi ho idratato Su questo prodottino Il tapping Mi piace Veramente Se lo faccio Super Vicino Alla confezione Cominciamo dagli occhi Negli occhi In quel trucco Ho messo un po' di Matita nera All'interno Come faccio sempre Per dare un po' anche Simile volume E valdezza Alle ciglia Per dare un po' di rinfinizione All'occhio Io uso questa Della P2 Questa qui Oh Sì Che sì Che sono belli Pallini E vado Sto mettendo appunto Su questa Rima qui E Vedete insomma Che mi chiede Devo Devo guardarmi Allo specchio Cerco di andare A Non anche coperta Ma è meglio Perché non è un bello Spettacolo Cerco anche Di andare A Verso Le ciglia Vedete Vedete C'è la differenza Non so se sentite Il congelatore Che si è attivato Non dà fastidio All'altro E Vado anche Dall'altra parte Alcune Però se ne lo fanno Direttamente Proprio così Ad occhi chiusi Non ce la faccio Ok Vedete C'è la differenza Comunque Sembra che Avevo Molte più ciglia Ok A questo punto L'unica cosa Che avevo fatto Agli occhi Era definire Proprio Un secondo La La parte Promoabile Con una terra Io uso sempre Le Portage Che io amo Ragazzi Inutile Visto che sono Abbastanza scure Questa E dovrei usare Quella dopo Usatela un po' Più scura Qui Che sarò anche Dopo per i conturi E vado Insomma Non è un tutorial Comunque Semplicemente Qui Dove c'è E' un po' Troppo calda E se la vado a mischiarla Con l'altro Vado a mischiarla Con questa Anche se è molto chiara Non si vede troppo Semplicemente Qui Sentite Per dare Una proprio Leggerissima Profondità E adattacione All'effetto Che voglio Che si veda Se si vede poco Non so La profondità All'occhio Mi piace Mischiarla Per vedere E vado anche D'altra parte E' un procedimento Che faccio Spesso Perché mi piace Che Non si veda Il trucco Che faccio Che si veda Che non si veda Che sono Truccata Che abbia Molto Più Trucco Di quanto Sembri Comun'è Fatto Un make Up Make Up Ok Un pochino Anche da questa Parte Ancora Ecco qua Per ora La mettiamo Via Adesso Adesso vado ad usare Uno dei punti forti Del make Up Che è Questo eyeliner Qui È il Melted Chrome Eyeliner Del Essence Che è questo qui Color Oro rosa Bronzo Un misto Bellissimo È il numero Uno Che però ve lo Fa Quindi sì Rame Ed è Stupendo Lo adoro Peccato per il pennellino Che vedete Non è Della più alta Qualità Della più Parte Costa poco Non si può pretendere Chissà che cosa Vedete Nonostante Faccia così Comincia a partire E Anche questo Lo faccio Guardandomi sotto Capirete Non sono amante Degli eyeliner Quindi non li so mettere Poi L'eyeliner In sé Ok E lo metto appunto Tutti Ok Massima Concentrazione Un occhio Un occhio Un occhio fatta Vedete E Vi consiglio di non fare come me E di non andare Qui vicino Perché è un po' Brucia Non è altissima qualità Ha una bella resa Ma Insomma Non è da usare sempre Ok L'altra parte Però guardate che bella L'effetto Ecco Vedete Non sono andate Molto sbagliato Perché Questa è la più spesso Di queste Adesso devo Espressire Anche il secondo Non vi preoccupate Per la manica Rosica Qui Mi sto Trattando E basta Non è nulla Ok Ultimo step Degli occhi Il mascara E Voglio provare Questo nuovo Di Luz Mifi L'Angel Touch Di Dilek Dilek E Non ho ancora provato Mi è arrivato da un po' E ringrazio anche Miriam Per averlo mandato Ti piace Suona Perdonatemi davvero Per il casino Che c'è fuori Ma Non posso davvero Evitarlo Mi dispiace tantissimo Ok E lo mettiamo È la prima volta Che lo provo Non dovrebbe essere Effetto Super wow Perché la sua proprietà È che È pesato Per essere anche Un trattamento Perché ha Dentro L'elie di ricina Molto Che è noto Per Far Far bene Insomma Non so In che modo Adattamente Ma far bene Alla ciglia A lungo andare Ok Ci vediamo dopo E la metto Solo Sopra Mi è andato Tipo qualcosa Nell'occhio Vedete Si sta arrossando Vabbè Non è il massimo Truccarsi In questa posizione Passiamo Alla base E Adesso Vi mostro Il mio trucchetto Fantastico Per il mio conturing E la mia tecnica Da professionista Prendo con le dita Proviamo solo questo Però forse Un po' chiaro E vado E vado Letteralmente A crearmi Una riga No Devo bene E poi Col pennello Com'è se fosse In crema Fondamentalmente Questo è un pennello Bitto Abbastanza duro Porto un po' In su Fondamentalmente Si può fare Solo con polveri Molto sfumabili Come questa Che con altri Vi rimane la macchia Per sempre Cioè potete sfumare Quando volete Ma no Fate mai Sto cosa Dall'altra parte Vedi questo Fantastico Conturing Il mio segreto Perché sembra Più magra A parte di tutto Cioè secondo me Non è fatto malissimo E' un po' forte Anche se vi essi Conciuto Cosa Che sono i più scuri Però alla fine Da davanti Ha un effetto Pazzesco Adesso Blush Illuminante E poi rossetto Come Blush Sempre questo Fra l'altro Artemisia Io lo adoro È un blush Oh Bellissimo A proposito Ditemi sotto Nei commenti Se avresti Un video Praticamente Dedicato Al ton clicking Con tantissimo Don't clicking Ok Questo Questo Schiacco Della lingua Qui Ecco qua Una Bella Piazzata Di rosa Io adoro Il blush Se dovessi Scegliere Due prodotti Glierei Matita E blush Ne sto mettendo A poco E poi Andate A base Ok Ok Passiamo All'illuminante E un altro Prodotto Di Cosmai Fai Ragazzi Non so cosa Produzione Però in generale Questo illuminante Adoro Anche come un pretto Stupendo Dentro è così C'è un migliato Di prodotto Però guardate tutto Il pantellotto Che Ora ne ho la metà Guardate qui Oddio l'odore E su di me Non fa macchia Perché E' proprio il mio colore Ora Sono in bell'uso Come Come Un pretto De Adoro E per le labbra Usa Lui 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 è la Mini Size Ora Costa 8 euro Di Velvet Daddy Che colore Stupendo Quella volta L'ho usato Sopra Il muro a cacao Quindi mi è dato Quell'effetto Un sacco Anche voluminoso Bellissimo Almeno A me in realtà Non piace particolarmente Ma a me piace Mi piaceva il momento Mi sentivo quasi Volcare In realtà A me piaceva E' veramente tanto Ok Allora Allora Questo rossetto E' morbido Di suo Cioè La pronomale Diciamo che Semi Matte Però Con sotto Il buro a cacao Diventa Super Cremoso E ovviamente Poi pure a cacao Si perde un po' Il colore Quindi Bisogna fare Più strati E infine Avevo messo Un filo Un filo Un filo Non così tanto Dunque Vabbè Un filo Di illuminante Sull'arco Di cupido Così Sempre Quello Di prima Quindi Ora Toglio la fascia Anche se I miei capelli Sono comunque Tettibili Se sono Di confie Ragazzi E niente Pienso sia Junta L'ora Di Abbassare Abbassare Le Luce E augurarvi 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 Una Buona 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 Buonanotte E spero davvero Questo video Vi sia piaciuto Sono abbastanza Satisfatta Con il look La fine È un sacco Estivo Sembra anche Molto Meno Appronzata In video È stato Molto Curissimo Fremio Standard E Tutto Il luminoso Sta molto Bene Con Cuore E Niente Spero anche Di avervi soddisfatto Di dire Che cosa Ho usato Spero di esservi Sata utile Buonanotte 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 Sognitoro Buonanotte Pasticci Buonanotte 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 Grazie.